Beh ciao eh! L'uovo di Pasqua, una grande storia! L'uovo di Pasqua nasse addirittura ai tempi dei faraoni. L'uovo era di buon auspicio, l'uovo fertilità, l'uovo conteneva la vita. Nel cristianesimo l'uovo è equiparato a un sasso, il sasso che copre la porta del santo sepolcro, dove dentro c'è la vita. L'uovo ha la vita all'interno, l'uovo di cioccolato ha la sorpresa. Quindi, care femmine golose e non golose, se vi regalano un uovo e non un diamante, eh non fatevene un cruccio, anzi pensate che vi regalano un pezzo di storia con la cioccolata. Quindi, occhio, occhio e buona Pasqua a tutti, femmine comprese!